Giovedì 28 ottobre 2021, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioscoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavortrea a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani Il Corriere delle Alpi e il Gazzettino di Belluno, quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo subito con la lettura dei titoli presenti nelle due prime pagine, partiamo con Il Corriere delle Alpi. Ecco, il titolo principale purtroppo riguarda una situazione drammatica che sta incombendo una storica azienda della Val Belluna, Ida Standard stacca la spina. Titolo forte che troviamo in questa edizione del Corriere delle Alpi, l'azienda si ritira da Tricchiana, sciopero oggi e domani, unica speranza alla vendita dello stabilimento, politica mobilitata. Gli approfondimenti li troveremo da pagina 16 a pagina 17, a firma di Paola Dallanese. Covid, allerta scuole, Zaia, il presidente della Regione Veneto, non escludo colpi di coda del virus. Feltre, dieci giorni per decidere sul fine vita di Samantha. La decisione del giudice Giacomelli sul distacco delle macchine che tengono in vita la feltrina Samantha d'Inca è attesa entro pochi giorni. L'approfondimento di Sosso a pagina 25. Roccapietore, boscaiolo morì sul lavoro, condanna a quattro anni. Il boscaiolo morì colpito dalla teleferica. L'impresario boschivo di Roccapietore, Riccardo Soraru, è stato condannato a quattro anni e cinque mesi. L'approfondimento di Sosso a pagina 29. Longarone, cadono sassi a Sofranco, fate verifiche con i droni. E ancora le case Atera, Levigo, bollette non pagate, il condominio resta al gelo. La foto di Copertina invece ci porta a Cortina d'Ampezzo. Il governo vuole un commissario per la pista da Bob. Gidoni è il favorito. La pista da Bob è Eugenio Monti nello stato in cui è attualmente, ed ecco un primo piano perché si sta guardando da Facebook o YouTube, pista che dovrebbe essere rifatta a nuovo in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questa è dunque la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo alla prima pagina del Gazzettino come di consuetudine. Incominciamo con la prima pagina del Gazzettino Nazionale per poi proseguire con quella riferita alla provincia di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino Nazionale con il Green Pass fino all'estate. Si studia la proroga in vista del 31 dicembre quando scadrà anche lo stato di emergenza. Tra le ipotesi dell'estensione e la progressiva diminuizione di categorie soggette all'obbligo. Lo schianto contro un albero. Tre ragazzi muoiono nell'auto. Rovigo, vittime un diciottenne e due diciasettenni. Gravi l'amico sedicenne. Bolsonaro ad Anguillara imbarazzo i polemiche. Jair Messias Bolsonaro lunedì sarà ad Anguillara, Veneta, per riceverne la cittadinanza onoraria. La polemica arde da giorni ma è definitivamente divampata ieri dopo che la commissione d'inchiesta sul Covid del Senato federale ha chiesto di mandare a processo il presidente del Brasile che lo avete sentito a una discendenza a Veneta, in questo caso appunto da Anguillara, Veneta. Foto di copertina all'intervista. Busetto e la squalifica storica. Doping, esami irregolari. Non ho mai fumato nulla. Renato Busetto, gondoliere e regatante della storica, squalificato per 13 mesi. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione dedicata alla provincia di Belluno del Gazzettino. Mezzo milione per riaprire le piste del Nevegale. Ed entriamoci all'interno del Gazzettino. Prima una panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Primo piano, pagina 2, la lotta alla pandemia. Pass si studia la proroga con il modello francese. Obbligo fino ad estate. Prima ipotesi in vista della scadenza del 31 dicembre. Estensione legata ai contagi. vaccinati verso il 90% senza QR code. Il governo teme lo stop alle prime dosi. E a proposito del Veneto. Zaia entro Natale il via la terza dose per tutti. Il presidente della regione Veneto per la fine dell'anno richiamo anche sotto i 60 anni. Appello agli anziani. Valutino già ora l'iniezione in deposito fiale per 882.715. Questi numeri, 539 i nuovi contagi rilevati ieri in Veneto, sono 478.509 dall'inizio. 0,65 il tasso di positività calcolato sugli 83.184 tamponi effettuati. Tre decessi registrati portano a 11.820 il bilancio complessivo. 239 i ricoveri totali, 34 in terapia intensiva e 205 in area non critica. E nelle scuole 953 studenti sono attualmente positivi. Quarantena per 307 prof. Numeri riferiti sempre alla regione Veneto. Politica in pensione a 64 anni, con scivolo di un anno il confronto slitta al 2022. Quota 102, prevista solo per altri 12 mesi, poi dialogo con i sindacati e riforma complessiva. Per la riduzione delle tasse è stanziato un fondo di 8 miliardi, taglio del cuneo. Regole più rigide sul reddito. Villette superbonus con ISEE. Pronta la manovra sussidio tagliato dopo il rifiuto di due offerte di lavoro. Efficienza energetica, tetto di 25 mila euro, arriva anche lo stop definitivo al cashback. Questi numeri quindi delle regole riferite a quanto è stato approvato in Parlamento. 9,4 in percentuale il rapporto tra deficit e PIL stimato nel 2021. 3,4 in percentuale la spesa per interessi stimata nella Nadef. 6 in percentuale la crescita del PIL del 2021 stimata dal governo. 153,5 in percentuale il rapporto tra debito e PIL di quest'anno. 409 in miliardi di euro il debito pubblico da finanziare nel 2022. 30 in percentuale il debito pubblico in mano alla BCE nel 2022. E 1,5% il tasso di inflazione stimato nella Nadef. Ricoveri, grandi investimenti, autorizzazioni in metà tempo. Approvato un nuovo decreto di semplificazione. Sbloccati 2,4 miliardi per il turismo. E ancora politica. Lo scontro sui diritti. Senato, i franchi tiratori affossano la legge ZAN. Scambi di accuse P. di Renzi. Con 154 sì e 131 no. È approvata la tagliola di Lega e Fratelli d'Italia. Ira di Letta ha fermato il futuro. Ma alla maggioranza mancano 16 voti. Sospetti su Movimento 5 Stelle. Salvini, Dem, arroganti. Trovrete anche un'intervista a Carlo Calenda. Formula Roma in Veneto. Zaia, bravo. Ma il problema è la Lega modello Salvini. Ma continuiamo con le notizie che riguardano il Veneto. Purtroppo una tragedia che ci porta a Rovigo. Spaventoso incidente. La sbandata e lo schianto sull'albero. Tre ragazzini morti nell'auto distrutta. Senza vita tra le lamiere. Il diciottenne alla guida e i due diciasettenni. Tutti rodigini grave. Un sedicenne dopo una doppia semicurva. La Ford Ka ha ortato il guardrail uscendo dall'altra parte. Purtroppo vediamo quanto è rimasto della piccola utilitaria. In questo caso la Ford Ka e il volto delle vittime. Filippo Battarello a sinistra, 17 anni. E Marco Stocco, 18, in un momento di allegria. La terza vittima, Michael Zanforlin, di 17 anni. L'abitacolo deformato dall'urto. I pompieri hanno lavorato a lungo tagliando il tettuccio. Il quarto amico dovrebbe cavarsela. La tragedia martedì, poco prima di mezzanotte, su una strada con un andamento sinuoso che porta alla frazione di Grignano. Una città in lacrime. Volti notti a loro eravamo legati. Tre dei quattro coinvolti giocavano nelle giovanili del club e del capoluogo. E forse sarà proclamato il luto cittadino. Tagliate quelle piante. Questo l'appello. Inchiesta stragi mafiose. Nel 93, perquisizioni anche a Rovigo. Rimaniamo in Veneto. Purtroppo anche con un'altra tragedia. La notizia di spalle che troviamo a pagina 10. Ha soffocato le due figlie. Il corpo trovato nell'Adige. Il corpo della mamma. La 34enne cingalese ripescata senza vita nel fiume. La cingalese sospettata di aver ucciso le bimbe di 3 e 11 anni in una struttura di Verona. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. Adentriamoci immediatamente al suo interno con pagina 2. La prima notizia riguarda l'Ideal Standard. Notizia che troveremo anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Ideal chiude trichiana. Disastro occupazionale. Questo è il titolo. La multinazionale conferma le più nere previsioni. A casa 450 lavoratori. I sindacati proclamano uno sciopero. Si spera nel subentro di altri marchi. Cessione dello stabilimento degli impianti e del marchio ceramica Dolomite. L'Ideal Standard di Trichiana ha ufficializzato ieri al tavolo. Convocato al Ministero dello Sviluppo Economico. La volontà di chiudere lo stabilimento bellunese. In quanto non più vantaggioso. Si sono così materializzati i timori dei 450 lavoratori e dei sindacati che da oltre un anno attendevano risposte sul futuro del sito. Immediata la reazione dei sindacati e dei lavoratori che hanno indetto due giorni di sciopero oggi e domani. Quest'oggi si terrà inoltre nel piazzale interno della fabbrica un'assemblea unica per fare il quadro della drammatica situazione. Dinkà, il ministro bellunese, gravissimo. Il governo tutelerà i dipendenti. L'assessore regionale Donazzan. Siamo sotto shock. Una giornata drammatica per l'intera industria veneto. E sempre a proposito di Ideal Standard. Il sito non rende più ma siamo disponibili a trovare soluzioni. La multinazionale non avvia subito la mobilità e si prepara ad incontrare la regione il 5 novembre. Poi il 17 il ministero. Lo stabilimento non riuscirebbe più ad essere competitivo. Da qui la decisione di smettere questo per quanto riguarda ovviamente la dirigenza che è titolare di Ideal Standard. Pagina 4, i giorni della tempesta. Tre anni dopo Vaia, avviati 2.221 cantieri, 360 ancora in coda. La ricostruzione dell'assessore Bottacin. Come avere migliaia di persone esposte e questi fenomeni sono sempre più frequenti. Bisogna tenersi pronti. E sempre a proposito di Vaia, gara di solidarietà. Due anni per finire. Il sindaco di Roccapietola e dei Bernardin. La pianura solidale ci è stata molto vicina. Serve ancora tempo per completare la messa in sicurezza di tutto il territorio. Ed ecco in questi scatti, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, il prima e il dopo, quindi il rifacimento dopo Vaia di alcune zone. In questo caso siamo a Roccapietola. E in quest'altro scatto sempre una sistemazione realizzata dopo Vaia. Borgo Piavi, ricordi appesi a un filo tra garage allagati e auto sotto il fango. Scusate, altre testimonianze di quanto avvenne nel 2018 a causa di Vaia. Siamo a pagina 7 del Gazzettino di Belluno. Fondi confermati. Nevegale riceve le ERTE. CD ha ricevuto in regione pronto il contributo da 524.000 euro. Sarà usato per far ripartire gli impianti che erano stati chiusi. La società conferma l'intenzione di agevolare chi ha comprato lo scorso anno il biglietto senza poterlo usare per il lockdown. Sanità bellunese. Sanitari e vaccini. La tenaglia dell'USL. Medici e infermieri. Via le terze dosi. Ma continuano anche le sospensioni. Sempre per quanto riguarda la sanità, incorsì a pochi professionisti. Ma c'è un piano. Accordi trasversali con Treviso, Genova e anche con Napoli. Passiamo a Feltre. Casa alloggio La Filanda. Ospiterà 16 disabili adulti. La struttura gestita dalla cooperativa Porta Aperta si trova in via Montegrappa. Il progetto è inserito nel progetto di reinserimento sociale dopo di noi. Feltre, Ceggio Maggiore, Val di Canzò, il Binsistema L'Acquedotto. La rete interessa anche la città di Feltre e San Maria del Prato. Rimaniamo nel Feltrino. 70 anni dietro il banco. Turrin, macelleria da tutelare. La regione ha inserito il negozio tra i luoghi storici del commercio. La bottega fondata da Elvio ora è gestita da Edoardo e dal nipote Stefano. Da Feltre a Fonzaso, sentiero Eremo-Sammicele, servizi forestali al lavoro. Il costo dell'intero intervento si aggira sui 120 mila euro. Siamo a pagina 12. Morte sul lavoro e depistaggio stangato. Il giudice ha negato le attenuanti all'impresario boschivo Riccardo Soraru di Rocca. Condannato ieri a 4 anni e 5 mesi il corpo dell'operaio Vitali Mardari, 28enne di Santa Giustina, era stato spostato prima di decidere di chiamare i soccorsi. Dovrà anche versare immediatamente una provvisionale di oltre 100 mila euro per la famiglia del lavoratore. La tragedia sostituì il cognato al lavoro, non tornò il 28enne quel giorno, andò al lavoro in sostituzione del cognato. L'imprenditore a Gordino sarebbe andato nel cantiere con Vitali Mardari, Simone Plate, Stefan Gabriele, Lazzar, tutti dipendenti in nero. Insieme avrebbero allestito una linea teleferica per l'esbosco Soraru. Alla guida di un escavatore avrebbe teso una braca metallica. Mardari era in quel momento vicino all'ancoraggio della teleferica. a Monte all'improvviso il cavo in acciaio si spezzò e l'operaio Moldavo di Santa Giustina venne colpito violentemente, morendo sul colpo per il trauma cranico. Ci sarebbe stato un errore nell'operazione. La forza applicata per stendere il cavo sarebbe stata di otto volte superiore al massimo consentito. Ed ecco un primo piano della vittima, Vitali Mardari, che morì a 28 anni, in un incidente nel cantiere boschivo nel Primiero. Il capo spostò il corpo prima di chiamare i soccorsi, condannato a quattro anni e cinque mesi. Sempre dalla Gordino, telefoni muti da quasi una settimana, disagi infiniti, non si può lavorare, siamo a Livina Longo. Al pago il neosindaco in tour in tutte le frazioni. Cortina, pista da Bob, un neocommissario. L'attenzione del governo è massima per l'intervento, tanto da istituire la figura di un sub-referente per l'opera. Verrà nominato da quello straordinario per le Olimpiadi Sant'Andrea e si occuperà solo del progetto che si farà a Ronco. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Andiamo avanti quindi con pagina 16. Ovviamente la prima notizia riguarda la crisi in Valbelluna, la crisi ovviamente di una importante azienda. Parliamo della IDA Standard, costi elevati. IDA Standard se ne va, l'unica speranza è la vendita del sito. Oggi e domani, due giorni di sciopero, l'azienda pronta a confrontarsi con Regione Mise, rinviata alla messa in mobilità. La rabbia di RSU e sindacati, la fabbrica non si tocca e altre dichiarazioni in merito a questa comunicazione shock da parte dell'azienda. Denise Casanova, dobbiamo ora guardare avanti e trovare una soluzione per questa azienda tramite l'accessione. Il peggio alle spalle, ma il percorso non sarà certo semplice. Federico Odinca, questa decisione non è accettabile, non tiene conto delle capacità dei dipendenti dell'unico sito produttivo e rimasto in Italia e il governo intervenga. Ancora Elena Donazzan, questo territorio oggi così duramente colpito, divenga uno dei primi punti dell'agenda di governo in materia di rilancio produttivo e difesa occupazionale. E tre ex ceramiche ACC a rischio, mille posti, novembre, mese cruciali in campo alla politica. L'assessore regionale Donazzan, uno shock per l'industria veneta. Il ministro Odinca, una scelta deludente e inaccettabile. Una notizia invece positiva che riguarda l'economia bellonese per quanto riguarda il settore turistico. Albergatori uforici c'è voglia di sci, tante prenotazioni aperte il 3 dicembre. Cresce la fiducia in vista della stagione invernale dopo un ottobre d'oro. Confidiamo nell'arrivo della neve. La nuova legge può cambiare, può cambiarci la vita. Questa è la dichiarazione per quanto riguarda Borgo, maestro di sci. I professionisti della montagna giudicano positivamente la bozza a gemini, di cui ne abbiamo parlato nell'edizione di ieri sempre del Corriere delle Alpi, ma temono che rimanga irrealizzata. E' appunto Borgo, maestro di sci, il nostro mestiere importante per l'economia alpina. Sempre più singole e pochi figli, cambia la famiglia, servono case. L'approfondimento del Corriere delle Alpi ci porta a pagina 20. Il patrimonio esistente non soddisferà la domanda nei prossimi dieci anni. Nel patte le risposte alle mutate esigenze. Siamo a pagina 21. Buco nelle bollette del gasolio. Il condominio resta al freddo. Il riscaldamento è stato acceso ieri dopo la segnalazione di un residente a Levigo. Ater ha avvisato gli amministratori, segnalate per tempo le eventuali morosità. L'incidente carambola tra due auto a salce, donna ferita e traffico in tilt, come si può vedere dai due scatti che rappresentano le due auto coinvolte in questo incidente. E andiamo a pagina 23 con Feltra. Il caso varianti sui lavori e materiale mancanti slitta l'apertura del teatro della Sena. Il nodo principale riguarda le fondazioni per realizzare il blocco delle scale antincendio e gli ascensori. E sempre da Feltra, oggi apre l'Altanon. Nuove negozi e servizi debuttano in città, tra questi l'euro brico. Continuiamo con pagina 25. Il caso fine vita. La sentenza su Samantha attesa entro pochi giorni. Il giudice Giacomelli delibera sulla richiesta dei genitori di staccare le macchine. La trentenne è in coma irreversibile. La madre è quello che vorrebbe anche lei. L'articolo è firma di Gigi Sosso. Fine vita di Samantha. L'amministratore di sostegno quasi certamente non cambierà. E la decisione del giudice Umberto Giacomelli attesa entro la prima settimana di novembre. Qualche giorno la Procura della Repubblica, che aveva dato parere favorevole al distacco delle macchine che tengono in vita la trentenne Feltrina in coma irreversibile e in stato vegetativo, si è espressa anche sulla persona che ne sta curando gli interessi. Secondo il procuratore Paolo Luca, è il caso che continui a farlo l'avvocato Andrea Baldassi, cioè la persona incaricata, indicata a suo tempo dal giudice tutelare del Tribunale di Belluno. Il legale della famiglia d'Inca, Davide Fente, aveva chiesto che gli subentrasse il padre Giorgio. Altre due notizie da Feltri. Allarme furti, ladri in azione a Farra, due abitazioni visitate. E ancora studenti del Colotti, imprenditori in erba per tre giornate. Tutto questo nel Digital Innovation Hub. Pedavena, investimento a Croce Down, ecco il primo centro benessere. Lionello Gorza, amplia l'offerta del suo albergo con saune e docce aromatiche. Il progetto dell'architetto Casagrande sarà uno spazio intimo, non di massa. Borgo Valbelluna, lavori contro gli allagamenti, appalti a Ronchena e Villa Piana. Partita la procedura per assegnare i cantieri di messa in sicurezza delle frazioni, sarà realizzata una briglia e si renderanno più capienti le condutture di scarico. Limana, De Zanette, segata l'uomo giusto per proseguire il cammino di Edi. La prima cittadina di Limana, spiega la scelta del nuovo vicesindaco, ha sempre garantito professionalità e disponibilità di tempo. Passiamo a Longarone con pagina 28. Cadono sassi sulla provinciale, verificate le rocce con i droni. A Sofranco c'è preoccupazione per le condizioni delle pareti sopra il paese. Abbiamo paura con l'inverno, i distacchi di materiale saranno più frequenti. E ancora a Canale d'Agordo, Frana a Pissoliva, il progetto c'è, la provincia attende le risorse. Ponte nelle Alpi, asfalti nelle vie di Cornolade, il comune punta sulle strade. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla tragedia che avvenne nel lavoro alcuni anni fa. morì sul lavoro, 4 anni e 5 mesi al titolare. Il boscaiolo senza contratto, Vitali Mardari, perse la vita colpito da una teleferica, condannato imprenditore di Roccapietro. Anche in questo caso si vede un primo piano del boscaiolo, Vitali Mardari. Continuiamo con il fatto che avvenne tre anni fa. Tre anni dopo il grande incendio, nasce una strada contro il fuoco. Siamo a Taibuona Gordino, le palle di San Lucano vennero devastate prima da Rogo e subito dopo dalla tempesta Valle. Ed ecco uno scatto perché ci sta guardando da Facebook o YouTube della drammatica sequenza di incendio che divampò appunto nella stupenda valle di San Lucano. Appunto le palle di San Lucano furono direttamente colpite da questo incendio e pochi giorni dopo, poche settimane dopo anche da Valle. Pagina 30, un subcommissario per la pista Monti, Franco Gidoni favorito per la nomina. La novità nel decreto legge trasporti, spulciato da Dario Bond, per l'Azzurro la struttura va sistemata a dovere. Ed ecco uno scatto della pista da Bob come si trova in questo momento. L'innovazione, segherie portatili per rafforzare la filiera del legno, risparmi sulle tasse, zenari, impianti che costano milioni sono sottoutilizzati. Questi macchinari non arrivano a 5.000 euro. Dalla rubrica Cultura e Società, in libreria, la storia della città sulle tracce delle donne, il volto segreto di Venezia è femminile. Antonella Barine e Daniela Zamburlina hanno ricostruito 154 vite e altrettante immagini. Ecco la guida che non c'era. Spettacoli, Spiller, una mia canzone lanciava l'iPod, sono passati 20 anni, ora esce remixata. Groove Jet, successo internazionale del DJ veneziano, fu usata da Steve Jobs per testare la sua nuova creazione. Giorno e notte, la rassegna del Tib, Coccole al Comunale, l'arte di sapersi accettare nella favola di Tobia. Torno con Comincio dai tre la stagione di teatro per famiglie, primo appuntamento domenica 17 al Comunale. Dallo sport, Tormen riparte da Levicole Dolomiti. No comment, l'ex DS dell'Unione, osservatore e consulente di mercato della società trentina, inspiegabile lo scorso anno a Felter e quest'anno i giocatori stanno facendo tutti bene. Hockey Alps League, due match chiave all'Olimpico. Si inizia oggi con Cortina Gerdaina, Sanna servono punti anche per lo scudetto, ma il nostro inizio è insufficiente. Verso l'Olimpia di 2022, Costantini l'unica che ha già il pass per Pechino. Fra gli atleti belonesi dovrebbero esserci quasi sicuramente Comarella, Gaspari e i due Sappadini, Vitozzi e Buzzi. Allenatori eschi men, Mariani guida la Cina del curling, Baldi Saruti coach della Vlova. Calcio di Serie A, Juventus scappò contro il Sassuolo, Allegri a meno 13 punti dalla vetta e terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Tempo stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino per locali nubi alte nel corso della giornata, estensioni della nuvolosità alta. Mari inizialmente mosse in attenuazione a poco mosso, temperature senza variazioni di rilievo. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belune, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina a luna, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione belonesi nel mondo.